Bene, facciamo un cambiamento, ovviamente non di argomento, ma di analisi. Abbiamo sentito il mondo universitario, abbiamo sentito il mondo politico, le istituzioni, licenziati. Adesso parliamo, e credo che sia pronto il collegamento, così vorrei un attimo vederlo in video e salutarlo, con e di FTTH. FTTH è una grande associazione internazionale europea che si occupa fiber to the home, della fibra, questa parola che ormai entra nell'uso quotidiano, nell'uso comune di tutti noi. L'altro giorno, infatti, mia mamma diceva ma tu hai la fibra a casa? Insomma, vi ricordate quando veramente usavamo il Telefax, era il massimo della connessione. Adesso parliamo di fibra, parliamo di 5G, si è parlato, lo ha tratteggiato qualcuno di 6G, quindi quanto sta andando veloce il mondo. Oggi abbiamo il privilegio, il piacere, ormai uno è talmente abituato ad avere la mascherina che anche quando non serve, perché sono a distanza credo di 10 metri, la tengo. Il privilegio, devo dire, il piacere di avere Vincent Garnier. Vincent Garnier è il direttore generale di FTTH Council Europe, questa grande associazione che si occupa di portare avanti le problematiche dello sviluppo della fibra, può non essere conosciutissima magari al grande pubblico, ma svolge un'azione di supporto, di indirizzo e complessivamente di guida in un ambito che, come ho detto prima, però è diventato familiare per noi. Quindi che cos'è questa fibra? Che cosa c'è dietro? Quante persone ci lavorano e quante la studiano e la portano avanti? È un grande tema, non soltanto italiano, ma chiaramente internazionale e soprattutto europeo. Quindi io ringrazio Vincent che è a Bruxelles per essersi collegato con noi, per aver accettato questo invito. Stiamo lavorando con Vincent come ZTE per sviluppare le attività che prima ho descritto in seno a FTTH e vorrei porgli due domande e poi lasciargli appunto libertà di intervento e di risposta. La prima, in un mondo che cambia, in un mondo sempre più veloce, dove esiste ovviamente la competizione, ma dove credo che si possa dire debba esistere una competizione fair, una competizione giusta. Ecco, quale ruolo può svolgere una grande associazione, adesso senza entrare ovviamente nel dettaglio, come FTTH, Council Europe, e quindi che cosa fa nella quotidianità questa grande associazione? E poi Vincent, la seconda domanda è, ma tu hai paura del 5G? Grazie, Alessio. Non mi avevi detto che devo fare rappresentazione in italiano. No, no, no. Mi spiace perché in italiano è molto basico. No, no, no. We have the simultaneous translation. You can speak in English, absolutely. Ok, no problem. A questo punto aggiusto la telecamera. Innanzitutto, buon paricetto. Sono molto grato per essere stato invitato a parlare a questo evento. Chiedo scusa. Qualcuno che è entrato nelle connessioni. Poi parliamo di spionaggio cose. Non facciamo... Siamo... Ok, can you go ahead? Ok, is it okay? Va bene? Tutto a posto? Stavo spiegando che il Cuclun e il suo team sono stati importanti partecipanti alla conferenza annuale una settimana fa. Sono molto felice di essere qui con voi. Prima di rispondere alla tua prima domanda, Alessio, che riguarda la concorrenza. Vorrei dire qualcosa circa le nostre organizzazioni che hai brevemente introdotto e che considera la ZTE come uno dei suoi 160 membri. Il Consiglio FTC è un'associazione di settore che riunisce tutti gli stakeholder industrie nel settore della fibra che hanno attività in Europa. Ogni membro è trattato su base di qualità sia i vendor attivi che passivi dalle piccole imprese e gruppi internazionali. Gli operatori che mostrano piani di deployment della fibra con credi e istituzioni finanziarie appartenenti al mondo dell'Accademia. Riteniamo che le reti a piena fibra sono infrastrutture che sono prova di futuro e che possono consentire i servizi e tecnologie digitali. Questo lo vediamo come requisito fondamentale per proteggere la competitività globale dell'Europa, al contempo svolgendo un ruolo di leader globale nella sostenibilità. Il nostro obiettivo è pertanto quello di accelerare la migliore connettività a piena fibra ubiqua e stiamo producendo studi e rapporti per consentire all'industria di poter sfruttare, capire e sfruttare i benefici della fibra ottica. Stiamo dando consigli ai policy maker, ai legislatori. Il nostro evento è della FTTH Conference che attrae più di 3.000 legati all'anno e che si è verificato in virtuale all'inizio di questo dicembre. Ci vediamo quindi come esperti in tutte le cose che sono collegate alla rete, dalla fibra alla casa, ma come luogo anche dove tutti i nostri iscritti possono creare rete, possono gerare più opportunità di business. Ora, se torno alla tua domanda Alessio, stiamo vedendo l'equa di concorrenza e una giusta concorrenza fra tutti gli stakeholder. Vediamo questo come elemento trainante per lo sviluppo delle reti in fibra. Abbiamo notato in passato che il mercato delle telecomunicazioni con un ambiente sano e dinamico, competitivo, è molto più probabile che investano in nuove tecnologie tipo la fibra o il 5G e soddisfano quindi di conseguenza le esigenze dell'utente finale. Quindi a questo punto di vista siamo in linea con gli obiettivi e i principi promossi da Unione Europea per quello che riguarda la giusta concorrenza. Grazie, grazie Vincent per questa parte. Prego, vai. Temi il 5G? Hai paura del 5G? Ti sembra uno che ha paura? Ti sembra che io sia uno che ha paura? Anzi, al contrario. Il Consiglio accoglie l'opportunità, abbraccia l'opportunità presente dal 5G. Per noi il 5G è il miglior amico della fibra e viceversa. E vi dico perché. Rispetto alla precedente generazione, le reti mobili 5G danno molti più dati, trasportano molti più dati con una latenza molto più bassa per rimanere semplice. Il 5G è 10 volte più veloce del 4G. La sua latenza è 10 volte più bassa. Quindi il 5G è l'unica tecnologica che può trasportare queste enormi quantità di nati. Le altre tecnologie non offrono ampiezza di banda così sufficiente e non sono in grado di soddisfare la bassa letenza della 5G. Per cui le antenne a 5G devono essere collegate ad una rete d'accesso in fibra totale. Oltre la rete 5G richiede più antenne di quanto non era in precedenza con il 4G. La versione frequenza che utilizza lo spettro delle onde millimetriche esporerà. Vedrete le attende a 200 metri dalle aree a intensa densità. Per cui in breve il 5G non può esistere senza completo accesso alla rete in fibra e mano a mano che le rete delle antenne 5G si sviluppano. La necessità di fibra crescerà in maniera esponenziale. Quindi il nostro consiglio non può che accogliere con favore lo sviluppo del 5G. C'è una ovvia complementarietà fra il 5G e le numerose applicazioni delle reti a fibra, così come le infrastrutture alla base che consentono i servizi 5G. Il 5G può essere costruito soltanto su una base fondamenta assolutamente robusta. Ora, ogni rete 5G non necessariamente ha bisogno di avere la propria infrastruttura d'accesso fibra dedicata. Questo è molto importante. Se le 5G e le reti FTT sono costruite come sistema convergente si può risparmiare tantissimo. Nell'ultima conferenza annuale abbiamo rivisto i risultati in un secondo studio che ha mirato a quantificare i potenziali risparmi che si possono ottenere costruendo la convergenza fra le rete 5G e il fibra e si è rivelato che una rete convergente ottimale può eliminare fra il 65 e il 96% del costo di un rete in fibra stand alone per il 5G. L'ulteriore studio appena rilasciato considera la situazione di uno di spiegamento per fase che è finalizzato con la connessione a tutte le antenne 5G e questo dimostra il rapporto fra la percentuale di capacità extra rimaste nel spiegamento FCI e FTT. Mi scuso per essere stato complesso per cui questo secondo studio ha dimostrato che aggiungere la capacità necessaria extra alla rete con un costo limitato extra perché costa soltanto il 5% anzi un 1% di costi addizionali ma se non lo si fa significa che la rete futura in fibra per il 5G potrebbe costare tra le due le cinque volte in più. Come vediamo ha assolutamente senso per gli operatori delle telecom coordinare e la dispiegamento del 5G e FTT. Un altro punto, nonostante quello che appena ho spiegato, alcuni stanno cercando di presentare la fibra e il 5G come in concorrenza. Dobbiamo avere paura del 5G come alternativa, una tecnologia alternativa che potenzialmente può sostituire la fibra to the home. È un'ottima domanda, a volte però l'argomento è mal rappresentato. Il 5G è la possibilità di dare la velocità ad un Cigabit che è superiore a quello che viene offerto, compresa l'offerta piena fibra che ancora non utilizzano la piena potenzialità della rete. Invece di dispiegare una linea di fibra fissa, alcuni operatori potrebbero essere andati a utilizzare le loro antenne 5G e dare i servizi in banda larga. Presso il nostro Council consideriamo questa soluzione ibride. Accesso fixo wireless che è meno affidabile, meno a prova di futura che non un collegamento fisso ad ogni abitazione può essere vista come una soluzione intelligente, attraente, che può essere dispiegata in maniera rapida, soprattutto per affrontare la connettività in aree scarsamente abitate. Ma questo non lo raccomandiamo come una soluzione a lungo termine. Non abbiamo paura di questa tecnologia, abbiamo più paura della confusione che questa può creare sui mercati e nella mente dei policy makers. Non la vediamo come essere in grado di competere in lungo termine direttamente con la tecnologia a piena fibra. Come ho detto, il 5G è il migliore amico della fibra. Entrambe le tecnologie si completano. Ma quello che mi spaventa, se me lo chiedi, è l'idea che l'Europa non è in grado di raggiungere i suoi obiettivi essenziali di costruire una società digitale sostenibile in termini di ragione. La RETI ha piena fibra. Sono le infrastrutture che consentono le applicazioni 5G e di molti altri servizi digitali. L'attuale pandemia ha dimostrato quanto essenziale può essere questa tecnologia per attenuare le sfide che stiamo affrontando. e sono sicuramente molte altre le sfide che ci aspettano. Presso il nostro Consiglio in Europa siamo convinti che il 5G, come la fibra, sarà sempre più strumentale per la trasformazione della nostra società per il prossimo decennio. Dovremmo guardare a questi argomenti con un sguardo a lungo termine strategico. non stiamo costruendo le reti per affrontare le esigenze odierne. Quello che è in gioco è la capacità per l'Europa di essere un luogo in cui i nostri figli possono prosperare felicemente e in maniera sicura. Si tratta della prossima generazione. E con questo vi ringrazio molto per la vostra attenzione. Ancora una volta grazie alla ZTE per avermi invitato. Mi auguro che il resto della conferenza possiate godervela. Grazie mille. Grazie mille, Winzer, per l'importante contributo, per il tuo discorso. Credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per poter offrire nuove opportunità di lavoro. Non parlo soltanto per la ZTE, ma parlo per tutto il mondo delle telecomunicazioni. Credo che sia importante avere una visione chiara. e oggi ha spiegato molto meglio di me la visione e il futuro. Per cui grazie mille e mi auguro di vederti presto a Bruxelles dopo questo particolare momento, una volta che questo sarà chiuso. Grazie mille. Grazie e arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.